Lo scontro salvezza tra Rimini e Fano finisce 0-0, nessuna rete ma tante occasioni. I biancorossi di Mister Petrone dominano il primo tempo mentre calano nella ripresa. Una traversa e un gol fantasma sono le occasioni più ghiotte per i biancorossi che però faticano a segnare e si portano a casa un punto che poco conta per la classifica. Gli ho fatto i complimenti ai ragazzi, poi vi può sembrare strano di questo, conosco il calcio e conosco le dinamiche. La squadra al primo tempo ha fatto qualcosa di incredibile, possesso palla, movimenti di catene, scaglionamento in mezzo al campo, hanno fatto le giocate che abbiamo provato in settimana e il rammarico ovviamente è di non aver realizzato il gol. Ma Rimini e Fano dovranno lottare sempre più ventemente per raggiungere quella salvezza che sì, è difficile ma non impossibile. Il Fano di Mister Brini gioca invece meglio nella ripresa, ma tutti i tentativi di creare una potenziale occasione da gol sono risultati sterili. Il primo tempo è stato bravo anche il Rimini ad accorciare e a non farci giocare. Poi al secondo tempo però dovevamo avere un pochino più coraggio e infatti ce l'hanno messa, ce l'hanno messo, forse potevamo fare ancora qualche cosa di più perché da oggi in poi siamo costretti a vincere, a cercare di vincere le partite. Grazie a tutti.